Ciao ragazzi, mi sono venuti in un nuovo video, come avete dovuto vedere che mi sono fatti i capelli lisci, mi sono fatti i capelli lisci, mi sono fatti i capelli lisci, e anche domande che mi avete fatto qui. Allora, l'amore di Marco, che sarebbe uno youtuber, mi chiede Hai mai bestemmiato in classe? Sei tante volte però a bassa voce, mi chiamo Sara, un bacione Sara. Pietro, hai mai nascosto un brutto voto dai tuoi? Yes, sei tante volte, ma ha detto il voto? Mamma, non mi ha dato la verifica, non mi ha dato la verifica. Poi, Gaia, here's here, hai mai vestito qualcuno? No. Virginia, hai mai fatto una cavolata e nascosto dei tuoi genitori? No, perché se ne accorgono sempre. Poi, Ale, no. It is Tati. Tati, sì. Hai mai fantasticato suo padre di un altro? Sì, tante volte. Quando ero piccola anche. Sì, tante volte. Gabri, hai mai mentito da tua migliore amica? No, perché a me non piace mentire le persone. Franci, hai mai fatto una puzzetta in pubblico? No, perché no. No, no. Poi, Vale, hai mai piaciuto qualcuno? Se sì, come ci siete riusciti a baciarvi? Per esempio nel gioco di bottiglia o delle obbligo di autorità. No, non ho mai baciato nessuna. Cioè, non ho mai baciato qualcuno, non ho mai baciato nessuna. E poi non giochiamo mai questo gioco in noi più, perché non si può giocare questo gioco, perché dai bambini giocherò questo gioco. Poi, Alessia mi chiede, hai mai mentito a tua madre? Mi saluti. Un bacione Alessia. Allora, no, no. Kevin, un bacione, anche se non mi hai chiesto il gioco. Un bacione. Hai mai pensato di scappare di casa? Sì, l'ho pensato, ma non l'ho mai fatto. Cioè, sono solo uscita dalla balcone e basta. Però non ho... Cioè, l'ho solo pensato, però non l'ho mai fatto. Poi, Aurora Giofrida. Hai mai fatto una figuraccia davanti al ragazzo che ti piaceva? Sì, quando ero piccola e ero con la bicicletta e sono caduta dalla bicicletta. che bello. Un bacione. Un bacione e Aurora. Bene, spero che questo vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. No, scherzo. Sì, ci vediamo al prossimo video e vi auguro anche buona Pasqua, perché visto che oggi lo pubblico, quindi lo pubblico il 14... oggi è il 15, visto che lo pubblico oggi, quindi un bacione e buona Pasqua a tutti. Ciao! Un attimo, mettete tanti like e chi per caso lo vede per qui in questo video e chi ancora non si è iscritto al mio canale, lo faccia, faccio tanti video belli, quindi faccio tanti video e quindi iscrivetevi al canale. Ok? Ciao! Un bacione! Ciao!